Ciao, sono Vincenzo Dottorini. Oggi voglio presentarti Ineltec Impianti. Insieme con il mio socio Roberto Policelli realizziamo da 2002 soluzioni elettriche integrate per le aziende e nello specifico eseguiamo la manutenzione e l'installazione di impianti utilizzando le tecnologie e le procedure innovative. Tutto questo per rendere efficienti e sicuri gli impianti elettrici ed elettrici speciali della tua azienda. Grazie all'esperienza acquisita in questi anni abbiamo deciso di focalizzarci solo sulle aziende perché ne riusciamo a comprendere bene quelle che sono le esigenze. Le traduciamo in soluzioni strategiche per migliorare sia l'efficienza dei propri impianti che il risultato economico dell'azienda. Il nostro focus è legato alla manutenzione, l'installazione, l'ammodernamento di vecchi impianti e l'efficienza energetica degli stessi. Abbiamo competenze e professionalità su diverse tipologie di impianti e troviamo soluzioni a 360 gradi per l'imprenditore. Sviluppiamo soluzioni sugli impianti elettrici, sistemi di sicurezza, allarme e videosorveglianza, impianti di rivelazione incendi o estrazione fumi e calore, ICT tutto quello che è legato alla telefonia e al trasferimento dei dati, efficienza energetica con revamping dei sistemi luminotecnici attualmente presenti, rifasamento, risparmio energetico. Inoltre lavoriamo sulla potenza degli impianti e quindi parliamo dei quadri elettrici di potenza, oltre che dei power center e cabine elettriche di trasformazione sino a 20.000 volt. Le caratteristiche principali che ci contraddistinguono sono quattro, affidabilità, competenza, correttezza e garanzie. L'impiego delle nostre soluzioni innovative consentono di ottenere negli impianti la massima efficienza e sicurezza degli stessi. Inoltre le tecnologie avanzate e versatili si adattano a ogni tipo di esigenza all'interno dell'azienda. Lavoriamo per portare a casa un obiettivo, che è il risultato che si aspetta l'imprenditore. Cosa aspetti ad affiancare Ineltech o quale partner per la tua azienda? Ricorda, affidarsi a specialisti, conviene!